Buonasera, mi presento, io sono Luca Gammaitoni, sono il presidente della fondazione POST che è l'ente organizzatore di questo evento. La fondazione POST è una fondazione che ha come soci il comune di Perugia e la provincia di Perugia e gestisce il museo della scienza di Perugia. È una fondazione che ha organizzato questo evento, questo è il terzo di una serie di eventi, ce ne saranno cinque, fanno parte di un progetto che abbiamo chiamato sulle spalle dei giganti, salire sulle spalle dei giganti serve a guardare più lontano. Questo progetto che ha appunto l'obiettivo di portare premi Nobel a Perugia, di farli incontrare col nostro territorio, è stato finanziato dalla fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. La fondazione Cassa di Risparmio gioca un ruolo importantissimo nella vita di questo territorio, a maggior ragione lo gioca nella vita del museo della scienza, è il principale ente sostenitore del museo della scienza. Sono contento quindi stasera di salutare il direttore Stazzi, Fabrizio Stazzi, che è ospite nostro qui stasera e grazie al contributo generoso e al sostegno della fondazione possiamo avere ospiti così prestigiosi presso la nostra città. Lasciatemi anche ringraziare altri che continuano a sostenere l'attività del post, innanzitutto il comune di Perugia, tra poco cederò la parola al rappresentante del comune che vi farà un breve saluto. voglio anche dire che abbiamo avviato oramai da un anno un programma di sostegno alle attività del museo della scienza. Il consiglio di amministrazione che è qui rappresentato ha fatto una scelta molto coraggiosa già da un anno, ha deciso che il museo debba essere gratuito per tutti, secondo la migliore tradizione dei musei anglosassoni. Un museo gratuito significa però che deve vivere allora se non fa pagare il biglietto perché è giusto che la cultura scientifica sia accessibile a tutti, deve vivere della generosità e del supporto dei cittadini. Come privati cittadini potete aiutare il museo post aderendo al programma di sostegno, abbiamo un programma che si chiama membership, potete con una donazione volontaria annuale sostenere l'attività del post. Ora abbiamo due nuovi strumenti molto importanti, il primo strumento è il 5x1000, potete da oggi fare una donazione del 5x1000 della vostra dichiarazione di redditi al post, a voi non costa nulla e al post porta invece risorse. Il secondo strumento che si rivolge invece più alle aziende è il cosiddetto Art Bonus, il programma Art Bonus del governo. Le aziende possono effettuare una donazione al post all'interno di questo programma Art Bonus e beneficiare di uno sconto del 65% sulla donazione, cioè le aziende possono recuperare il 65% su questa donazione. Voglio ringraziare, abbiamo iniziato da poco a pubblicizzare questa forma, ci sono delle aziende che hanno già aderito e voglio ringraziarle, sono la Sterling, la Umbra Control, la Satiri Auto e Wise Power SRL. Ringrazio queste aziende che sono l'avanguardia, mi auguro, di tante altre aziende che decideranno di donare, effettuare una donazione, come è, ripeto, nella migliore tradizione dei paesi civilizzati. Detto questo vorrei ringraziare anche altre due partner che per il post hanno fatto molto e continuano a fare molto. La Grifolatte, che è uno dei nostri sostenitori di più lunga data e più importanti e oltre alla Grifolatte vorrei ringraziare anche Umbra Acque, altro partner che ha spesso e volentieri condiviso e sostenuto le attività del post. questo. Detto questo e prima di presentarvi il graditissimo e molto prestigioso ospite di questa sera vorrei passare la parola al rappresentante del Comune, abbiamo l'assessore Michele Fioroni in rappresentanza del Sindaco e vorrei chiedergli appunto di dare due parole, il Comune per noi è un partner di grande importanza e di grande sostegno. Prego. Buonasera a tutti, innanzitutto a nome del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale vi esprimo la gratitudine per questo evento. È un onore per me come rappresentante dell'istituzione dare il benvenuto a un premio Nobel perché per la mia generazione, ma vedo anche per le generazioni di oggi, il Nobel ha rappresentato un faro, rappresentava l'eccellenza del pensiero in una società che spesso a volte tralascia l'importanza e la centralità del pensiero, prende altri esempi perché forse sono più attraenti, più patinati, però io ritengo che il premio Nobel da sempre abbia mantenuto quella sua identità straordinaria, quella di rappresentare un faro. Allora io ero un po' intimorito onestamente, io mi occupo di economia come direbbero gli inglesi, la chimica molecolare is not my cup of tea, non mi ci muovo proprio, forse ecco una volta un Nobel sull'economia mi muoverei sicuramente meglio. Sono andato a vedere cosa voleva dire macchina molecolare e ho letto una cosa interessante che è praticamente una macchina in cui le molecole continuano, sono tra loro interconnesse, ma continuano a muoversi relativamente tra di loro. E ho pensato a questa ricaduta di questo concetto che è un concetto tipicamente fra il meccanico e il chimico, su quello che è l'aspetto sociale e ho pensato che cosa straordinaria poter ipotizzare in una società in cui tutte le persone siano interconnesse, oggi se vogliamo l'interconnessione proprio in questa città è un elemento di forza, ma ognuno possa mantenere la propria libertà di movimento. C'è quasi un concetto rivoluzionario dietro questo elemento, perché c'è l'elemento della condivisione e se vogliamo oggi questo momento, ma in generale il Nobel ha questo straordinario punto di forza che non è solo divulgazione, ovvero tramite la divulgazione di un concetto scientifico complesso, oggi sarà reso accessibile a chi come me, ma credo che in sala ce ne saranno altri non hanno competenze di chimica molecolare, quindi non solo c'è un aspetto divulgativo ma c'è un innalzamento e da qui la produzione di energia che è un altro degli aspetti importanti se ho studiato bene di questa macchina molecolare, da qui la produzione di un'energia a livello collettivo perché? Perché il sistema di pensiero, quello a cui facevamo riferimento prima, si è innalzato. E allora riuso una parola che tendo a utilizzare spesso quando si parla di capacità di sviluppo di un territorio. Un territorio cresce quando cresce e migliora il suo sistema di pensiero collettivo, quando si crea un ecosistema territoriale dove le capacità e il livello di conoscenza delle persone si eleva, dove la conoscenza e la cultura scientifica rappresenta un fattore abilitante fondamentale per creare nuova innovazione. Non è irrilevante quello che stanno facendo con grandissimo sforzo questo nuovo consiglio di amministrazione del POST, di rendere accessibile la scienza, di rendere accessibile quello che sembra più lontano per tutti noi, un premio Nobel. Un premio Nobel è accessibile grazie al POST. Allora io ritengo che tutti quanti usciremo da questa sala oggi con una consapevolezza di essere un po' come quelle molecole nella macchina, in questa macchina molecular. Usciremo tutti insieme in fila, quindi un po' incatenati, ma ognuno ancora con un'energia sempre più forte. E sono abbastanza convinto che da domani questa città, questo territorio sarà un po' in maniera infinitissimale, come spesso succede nella scienza, sarà migliore, sarà più evoluto, sarà più forte, perché sono eventi come questi, sono istituzioni come il POST che rendono, che fanno crescere una città. Quindi, messie, benvenuti a Perouse e grazie di tutto agli amici del POST e buona conferenza a tutti. Grazie. Adesso, senza ulteriore indugio, lasciatemi introdurre l'ospite gradito e prestigiosissimo di questa sera. Si tratta del premio Nobel per la chimica 2016, il professor Jean-Pierre Sauvage. Jean-Pierre Sauvage ha vinto il premio Nobel, assieme a altri due colleghi, nel 2016 per un tema che è quello delle macchine molecolari. L'assessore ha già introdotto questo tema, ma è un tema che a molti di noi può dire e non dire tanto. Io, quando parlo di questo argomento, e mi capita a volte nella mia attività sia come scienziato che come presidente del POST, racconto questa storia. Tra la fine del 1700 e i primi del 1800 si ebbe una grandissima rivoluzione, i cui effetti si propagano fino ad oggi, è la cosiddetta rivoluzione industriale. Questa rivoluzione fu resa possibile dal lavoro di alcuni scienziati che, da un lato, inventarono macchine nuove. Pensate alle macchine a vapore, al lavoro di scienziati come James Watt, William Rankin. Dall'altro, scienziati teorici che studiano le leggi che regolano la trasformazione di energia e di calore in lavoro e lavoro in calore. Scienziati come Rudolf Clausius o Lord Kelvin o Boltzmann. Ecco, oggi noi ricordiamo questi nomi e li leghiamo a quella importante rivoluzione. C'è in atto, non ce ne accorgiamo ancora, è iniziata venti anni fa una nuova rivoluzione. Venti anni sono pochissimi per una rivoluzione, ma i nostri figli e i nostri nipoti saranno testimoni che questa rivoluzione, iniziata un po' in sordina, ha cambiato le loro vite, tanto quanto la rivoluzione industriale ha cambiato le nostre. Ecco, è un onore sapere che tra le persone che verranno citate come iniziatori di questa rivoluzione c'è il premio Nobel Jean-Pierre Sauvage. Lo ringraziamo per la sua grande disponibilità. Vi devo dire che io che ho avuto modo di riconoscere in questi giorni, persone estremamente affabili, estremamente disponibili. Il professor Sauvage parla italiano o perlomeno lo comprende molto bene. Come tutti gli scienziati è un po' timido a esprimersi in italiano. La lezione verrà fatta in inglese, quindi chi vuole a disposizione la traduzione simultanea. Alla fine della lezione riceveremo alcune domande, io farò un po' da moderatore e le trasmetterò al professor Sauvage. Senza ulteriore indugio lascio parola al premio Nobel per la chimica 2016, il professor Sauvage. Buongiorno a tutti. italiano. Vorrei ringraziare il professore Luca Gammaitoni, il museo delle scienze della città di Perugia, il comune di Perugia, per l'invitazione e per l'organizzazione della mia visita. È un piagere, un grande piagere per me. Ma il mio italiano è molto limitato, allora scusi, ma per la parte scientifica sarà meglio per tutti se parlo in inglese. Quindi parleremo di macchine molecolari e motori molecolari. Avremo due tipi diversi di macchine che vedremo, quelle che si trovano nella biologia e le altre macchine invece che sono macchine chimiche. Io non sono sicuro che tutti conoscano bene la chimica, non sono sicuro che tutti siate esperti di chimica e io ho preparato una piccola introduzione solo in modo tale che voi possiate capire meglio o forse ricordarvi di cosa sono le molecole. Qui per esempio ho rappresentato due molecole. Una che è molto semplice che è il benzene. Il benzene è un esagono, è rappresentato in questa maniera o così e significa sempre la stessa cosa e contiene sei atomi di carbonio e sei di idrogeno e magari poteste credere che si tratta di un esagono puro, un esagono perfetto. Ed infatti non è mai un vero esagono perché come tutte le molecole vibra, si distorce, c'è un legame chimico qui che potrebbe allungarlo un po' o accorciarlo un po' o vibra. Ecco possiamo dire più o meno un esagono ma non è mai un esagono perfetto se non a temperature molto molto basse e questo solo per mostrarvi che le molecole si muovono e sono sottoposte a deformazione e distorsione ma è qualcosa che non si può controllare, cioè è fuori controllo. Noi non sappiamo come controllare i movimenti in una molecola così semplice come il benzene e lo stesso vale anche per il colesterolo per esempio ed altre molecole e anche in questo caso sto parlando di una molecola molto semplice, il colesterolo, per un chimico è semplicissima. I chimici sono in grado di fare anche delle cose molto complicate e voglio farvi vedere una molecola molto complicata che è stata fatta un paio di anni fa. Questa molecola si chiama breve toxina A. Mette paura. La complessità di questa molecola è assolutamente spaventosa e per capire meglio cosa significa? Vi dirò che ogni punto qui, ogni vertice di un esagono o di un ottagono o di un pentagono rappresenta un atomo di carbonio e quindi i chimici hanno creato questa molecola e non è una cosa facile affatto fare questo tipo di molecola. È stata creata da un gruppo di americani guidati dal professor Keis Nicolaou in California e ci sono voluti 12 anni, 12 anni, 12 anni non con un lavoro di una sola persona ma si trattava di un gruppo di 25 ricercatori per 12 anni. Quindi se facciamo un calcolo 25 per 12 rappresenta più o meno tre secoli di lavoro per una persona. Quindi le molecole sono molto complicate da creare, soprattutto quelle che sono più complesse e questo è un bellissimo esempio invece di una molecola naturale, una molecola tossicissima che viene creata da microorganismi e che richiede otte fasi singole da A a B, da B2C, da C2D eccetera e l'obiettivo era quello di dimostrare che l'umanità, i chimici possiamo dire, possono fare molecole molto complesse e così facendo fanno grandi progressi nella metodologia della chimica, cioè si possono trovare nuove reazioni chimiche, possono migliorare delle reazioni chimiche già conosciute e questo viene considerato un lavoro importantissimo. Ed ora passiamo a qualcosa che è completamente diverso. i chimici, piuttosto sono i chimici e i fisici in questo caso che hanno scoperto una nuova molecola, C60, che è molto molto simile a un pallone, a un pallone da calcio e infatti riconoscete dei pentagoni, degli esagoni, pentagono, esagono, proprio come un calcione da calcio, un pallone da calcio e se lo rifate vedete esattamente sempre la stessa cosa, comunque l'analizzate, questa molecola è una molecola interessantissima almeno per i chimici e contiene 60 atomi di carboni, nient'altro se non questi 60 atomi di carboni. È stata scoperta assolutamente incidentalmente, non posso discutere come è stata scoperta, ma è il risultato di quello che viene chiamato in inglese serendipite, serendipite significa appunto una scoperta accidentale e se parliamo di questa molecola è perché il diametro di questo composto è un nanometro, un nanometro, cioè piccolissima, un nanometro è piccolissimo e voglio portarvi questo esempio anche per dirvi che un nanometro, devo spostarlo, un nanometro è piccolissimo e se prendo il rapporto tra un nanometro e un metro diciamo che questo è un metro, il rapporto tra un nanometro e un metro è più o meno lo stesso tra quello di una piccola barra che potrebbe essere 30 centimetri di lunghezza, fino alla distanza tra la luna e la terra, quindi il nanometro è veramente piccolissimo. A questo punto quindi andiamo avanti e cominciamo ad analizzare con più attenzione le macchine molecolari. Se guardiamo le molecole sintetiche, le molecole sintetiche e anche la maggior parte delle molecole naturali, questi oggetti vengono considerati statici, come vi ho detto precedentemente per il benzene, si muovono un po', vibrano, ma il movimento è assolutamente random, non possiamo controllarlo e quindi possiamo dire che hanno un movimento stocastico o random. Ora vediamo la biologia, l'aspetto biologico. Nella biologia il movimento controllato delle molecole è assolutamente essenziale ed è onnipresente, è ubiquitario, si trova ovunque. Ci sono i motori rotativi, i motori lineari nella biologia, ci sono i walker, molecole che camminano quindi, sistemi che si contraggono e che si estendono, proteine, motori di proteine, che questa maggior parte di questi sistemi dinamici appartiene alle proteine motorie e sono dappertutto. Noi non ci soffermeremo troppo sulla biologia, ma vorrei semplicemente farvi vedere un esempio, un esempio che è un esempio bellissimo ed è l'esempio che si chiama ATP sintasi, che è responsabile per l'ATP, forse lo sapete o non lo sapete, ma l'ATP è il carburante della vita. Se avete una macchina o un motorino, mettete del carburante e lo fate bruciare e questo vi dà l'energia. Negli organismi viventi la situazione è completamente diversa, c'è l'ATP e l'ATP è il carburante e quando c'è bisogno di energia l'ATP viene degradato e qui vedete questi legami chimici e si crea il fosfato inorganico e non è assolutamente essenziale, si può vivere anche senza sapere questa cosa, ma semplicemente deve dire che c'è un grande enzimo che si chiama ATP sintasi, che è responsabile per la produzione di ATP. Quindi nel vostro corpo avete tantissimo ATP, lo utilizzate quando avete bisogno di energia ma dovete ricostruire l'ATP dopo che l'avete degradato e quindi di nuovo dovete creare un nuovo ATP costantemente e forse c'è una cosa che non sapete ma che è veramente incredibile è che noi facciamo circa una metà del nostro peso ogni giorno è fatto da ATP e questo è dovuto proprio a questa macchina molecolare è che l'ATP sintasi è un motore rotativo che viene rappresentato qui in maniera semplice, si tratta di un enzime che si trova all'interno di una membrana e che è sottoposto a rotazioni, costantemente questa rotazione è accoppiata alla sintesi dell'ATP. e adesso vedete questo video che si trova anche sul web e c'è questo video che è assolutamente spettacolare non è il prodotto dell'immaginazione del biologo ma si basa su veri e propri dati quindi sono dati molto rigorosi che portano a questo video sono dati scientifici e il sistema funziona così qui avete l'adenosine di fosfato, l'ADP e il fosfato inorganico che arriva, questi sono i componenti degradati e mentre arrivano qua il sistema produrrà ATP e questo inviola l'ATP e l'ADP arriva e qui potete vedere che c'è questo cilindro e il cilindro gira, è attaccato ad un'asse e l'asse se è infilata all'interno di questo grande gruppo e poi quando ruota distorce il sistema e crea ATP ma c'è un altro video che ho trovato che mi piace moltissimo e che è stato fatto da un'università di Groningen al nord Ben Ferringa che è il terzo laureato, Nobel laureato che ha ricevuto il premio con me la sua università ha preparato proprio questo bellissimo video che l'ha preparato per lui è un motore rotativo, è lo stesso sistema ATP sintasi ma forse è un video fatto in maniera migliore di quello precedente il punto giallo, qui li vedete, questi sono i punti giallo, questo all'interno di una membrana si trasportano dalla membrana da una parte all'altra e si genera l'ATP c'è un esempio che è spettacolare ma come vi ho detto ce ne sono molti di esempi ora apparentemente potremo cominciare a parlare della chimica sintetica classica e in particolare partiremo di catenani, rotassani e nodi molto brevemente di nodi ora alcune definizioni questo è un catenano il catenano più semplice che possiamo immaginare non c'è bisogno di dire che in Italia catena significa catena anche in latino catena e quindi qui abbiamo la catena più piccola di cui si possa pensare e costituisce da due anelli interconnessi molto molto semplice e i catenani sono stati sognati dai chimici per anni e anni decenni e decenni e queste molecole venivano considerate come molecole che non si potevano creare e questo è successo per più di otto anni queste molecole non riuscivamo assolutamente a costruirle ma venivano sempre discusse se ne parlava sempre tra i chimici i chimici erano affascinati da queste molecole qui abbiamo una cosa molto simile il rotassano rota per ruota appunto e axon per assone che è infilato all'interno quindi i catenani questa è la più semplice è stata fatta poi a un certo punto dai chimici molti molti anni fa è stata creata Schill e Lutringhauser sono due chimici tedeschi hanno fatto un lavoro bellissimo che hanno pubblicato più di 50 anni fa ma c'era un elemento debole l'elemento debole era che era eccessivamente difficile creare i catenani utilizzando la loro strategia richiedevano circa 23 fasi chimiche singole e alla fine ottenevano poi una quantità molto molto piccola di queste molecole e quindi dopo la loro pubblicazione nessuno era più interessato ai catenani e quindi per 20 anni è rimasto un settore dormiente nessuno voleva più creare i catenani perché venivano considerati impossibili da creare ed ora passiamo a come siamo entrati noi nel settore e perché abbiamo creato i catenani c'è una domanda molto semplice perché i catenani e i rotassani sono così interessanti in relazione alle macchine molecolari? la risposta è piuttosto semplice ora immaginiamo che si possono creare dei catenani e che puoi creare anche dei rotassani e quindi è tutto quello di cui ha bisogno per creare una macchina molecolare diciamo che qui possiamo creare un rotassano di questo genere e se oltre questo possiamo anche mettere in movimento il sistema in modo tale che l'anello rosso che è qua può spostarsi dalla parte sinistra dell'asse fino alla parte destra della stessa asse e poi ritornare indietro per ritornare alla sua posizione originaria sinistra allora si è molto vicini a creare un motore lineare come un pistone che si muove in un cilindro e qui se riuscite a far ruotare questo anello rosso sull'asse in cui è stato infilato oppure se riuscite a ruotare questo anello rosso qui all'interno di quello blu allora siete molto vicini a creare un motore rotativo e nessuno c'era mai riuscito nel passato e quindi noi ci siamo interessati moltissimo e Catannani e i rotassani all'inizio come una sfida come una sfida di sintesi perché nessuno riusciva a crearla in maniera soddisfacente e poi in seguito ci siamo interessati in relazione alle macchine molecolari ora voglio cominciare a parlarvi di quello che volevo fare all'inizio quando ho iniziato con il mio primo gruppo eravamo interessati ad un progetto enorme che era quello di cercare di scendere la molecola dell'acqua in H2O2 utilizzando l'energia e ci vuole tantissima energia per scendere la molecola d'acqua e naturalmente tutti pensavano all'energia solare perché l'energia solare fondamentalmente è gratuita e se si può scendere la molecola dell'acqua utilizzando il sole allora si può avere questo all'azoto si genera acqua se lo si brucia e non è assolutamente inquinante non c'è il global warming non c'è la CO2 ma devo dire che questo era un problema veramente difficile i chimici hanno lavorato tantissimo su questo progetto cercando di scendere l'acqua in H2O2 e l'hanno fatto per 8 anni 7 anni ma con pochissimo successo tuttavia quando siamo entrati in questo progetto ci siamo imbarcati in questo progetto le persone che lavoravano in questo settore utilizzavano una molecola di questo tipo non ne parliamo in dettaglio ma era di un bel colore una molecola di un bel colore che poteva raccogliere i fotoni solari quindi dalla luce solare è una specie di rosso profondo ma c'è qualcosa di speciale qui al centro qui vedete RU RU è lo simbolo del rutenio e il rutenio è un modello molto costoso molto raro molto simile all'oro al platino ed era chiaro che se volevamo avere dei dispositivi che fossero in grado di scendere l'acqua in produzione di massa con una produzione di massa il rutenio sarebbe stato impossibile perché costa troppo e così noi abbiamo pensato di sostituire il rutenio con il rame perché il rame costa molto poco e abbiamo pensato che magari c'è qualcosa di interessante nell'utilizzare il rame invece del rutenio e quindi cercheremo di creare delle molecole che sono molto interessanti in relazione all'ascissione dell'acqua utilizzando però il rame allo stesso tempo avevamo un caro amico un amico americano a Strasburgo che era stava facendo un anno sabbatico a Strasburgo quindi abbiamo cominciato a collaborare con lui perché questo amico David McMillan era esperto di fotochimica del rame e quindi si è unito a noi e abbiamo creato una nuova molecola che era veramente interessante in relazione all'ascissione dell'acqua dell'ascissione dell'acqua per via fotochimica abbiamo fatto questo composto e questo composto era veramente interessante adesso ci fermiamo per un minuto era un bellissimo settore di ricerca sapevamo tutto di questo settore ma analizzando questa molecola ci è venuta un'idea e l'idea è molto semplice se riesci a visualizzare il sistema qui vedete infatti che c'è qui un piano verticale e altre cose dall'altra parte infatti abbiamo qualcosa che è in un piano orizzontale ora con la vostra mente pensate alla chimica nella mente è molto facile fare la chimica in mente immaginate di collegare questo punto a quest'altro punto e fate un anello create un anello e dall'altro lato immaginate di interconnettere questo punto e quest'altro punto qui e create un altro anello questo in un piano orizzontale e l'altro in piano verticale cosa c'è di speciale in questi due anelli? si crea un catenano molto semplice molto semplice alcuni se ne sono accorti subito alcuni tra voi se ne sono accorti subito e quindi la fotochimica organica abbiamo avuto l'impressione che stavamo entrando in un nuovo settore perché i catenani erano assolutamente sconosciuti a parte al vecchio lavoro di questi chimici tedeschi che nessuno aveva cercato di replicare e avevamo la sensazione che c'era qualcosa di veramente interessante e forse dovevamo smettere di occuparci di fotochimica in organica ma saltare verso un nuovo settore quello di creare degli anelli interconnessi cioè i catenani allo stesso tempo la mia carissima amica ha deciso di venire a lavorare nel mio gruppo era una grandissima chimica organica in grado di creare molecole molte sofisticate e abbiamo deciso quindi di entrare in questo nuovo progetto di creare i catenani e vorrei spiegarvi soprattutto ai più giovani che vorrebbero occuparsi di scienza o che già stanno occupandosi di scienza la ricerca non è mai una linea diretta non pensate che vedi il tuo obiettivo a 10 chilometri a distanza e che sei su una super strada e che raggiungerai direttamente il tuo target no non funziona così siate pronti a fermarvi a riorientare la vostra ricerca di cominciare a guardare di percorsi diversi ed io credo che questo è il modo poi di trovare cose nuove e quindi in meno di un anno abbiamo fatto la nostra prima pubblicazione sulla creazione dei catenani utilizzando la strategia di cui vi ho parlato nella diapositiva precedente appunto questa che si basava proprio su questo complesso di rame e quindi abbiamo pubblicato in francese questo articolo era una specie di suicidio pubblicare in francese perché nessuno l'avrebbe letto l'abbiamo pubblicato in francese non tradurrò perché una nuova famiglia di molecole i metallocatanani la posso tradurre anche in italiano ma non voglio insultarvi e quindi questo è stato l'inizio e la strategia che vi faccio vedere qua beh cominciamo da un metallo di transizione qui a questo punto che sarà rame quindi lo misceliamo con due frammenti generiamo una specie di questo tipo in modo che possiamo farlo molto velocemente come faccio con le mani e poi creiamo un anello qua un altro anello di qua e alla fine ottengo un katanano è molto molto semplice e quindi adesso voglio farvi vedere la molecola reale vi prometto non è che stiamo facendo chimica quindi c'è questa mezzaluna una molecola di mezzaluna a forma di mezzaluna come questa la mischiamo con il rame è uno ione di rame uno più generiamo questa specie e a questo punto creiamo il katanano creiamo un anello qui come vi ho detto precedentemente facciamo un altro anello di qua e otteniamo alla fine il katanano sulla carta è facilissimo invece da un punto di vista sperimentale comunque non era difficilissimo solo tre fasi da molecole commercialmente disponibili e potevamo ottenere magari un grammo di questa specie in due o tre settimane e questo per dire che improvvisamente i katanani sono diventati molto accessibili come molecole mentre i chimici prima di questo momento le avevano considerate come qualcosa di impossibile da produrre ho anche delle animazioni vedete e quindi ricomincio da capo i disegni che vi ho fatto vedere prima questi disegni sono vecchio stile e tutti siete d'accordo con me che sono vecchio stile e io le ho scelto Christian Dietrich faceva le molecole e io facevo tutti i disegni quindi diciamo che il mio contributo era piccolo ma veramente sembrano venire da un altro tempo e i miei studenti dopo che ho vinto il premio alcuni di loro mi hanno detto Jean-Pierre farai tantissime lezioni non puoi utilizzare quei vecchi disegni che sono così vecchi quando parlerai in delle sale grandissime quindi preparerò delle animazioni per te e quindi l'hanno fatta eccola questa è la mezzaluna la misceliamo con il rame l'arriva rame qui e quindi creiamo quello che noi chiamiamo la specie entwined intrecciata e poi ciclizziamo mettiamo un anello sulla destra uno sulla sinistra e alla fine ecco abbiamo il katanamo ma c'è anche un'altra strategia che abbiamo utilizzato ampiamente che è leggermente più complessa e che noi abbiamo chiamato gathering and threading raccogliere e infilare iniziamo da un anello quindi questo è un anello di sintesi come potete vedere a tre fasi per farlo quello dalle molecole commercialmente disponibili possiamo creare grammi di questo composto poi aggiungiamo il rame più un altro frammento addizionale questo ed infine ciclizziamo quindi il mio studente era un po' andava di fretta devo dire e quindi ve lo farò rivedere perché va troppo veloce non è così facile cominciamo dall'anello quindi aggiungiamo il rame e poi il frammento addizionale che infiliamo poi ciclizziamo e otteniamo questo composto e questo è stato l'inizio nel nostro settore devo dire che siamo riusciti ad ottenere anche delle specie senza metallo togliendo il rame l'oione di rame che era stato così utile per creare le molecole e questo è un'immagine è una struttura radiografica per un chimico questa ma corrisponde a un'immagine tridimensionale una fotografia tridimensionale della molecola e mostra che è molto compatta e quando togliamo il rame generiamo una nuova specie che è una specie molto più aperta vedete quanti spazi ci sono tra i due anelli qui e questi due anelli possono ruotare liberamente l'uno nell'altro e quindi questo come vi ho detto è stato l'inizio ma eravamo molto interessati alla topologia la topologia beh cosa intendo con topologia sto parlando di nodi e catenane ma voglio farvi vedere che queste molecole topologicamente così interessanti sono molto molto comuni in natura ci sono tantissimi nodi tantissimi catenane nella biologia qui potete vedere un bellissimo esempio di DNA che forma un nodo trifoglio e qui potete vedere una figura di otto catenane e devo dire che ci sono tantissimi DNA tantissimi esempi di DNA che forma catenane e nodi probabilmente il 2% delle proteine sono o catenane o proteine nodi e quindi è veramente incredibile è stato sorprendente per molti di noi e devo dire che i virus ci sono i virus che sono bellissimi o catenane voglio farvi vedere questo bellissimo virus questo virus è un batteriofago e quindi può invadere i batteri e può miscelare il suo DNA con il DNA dei batteri ed ora se guardate con attenzione questo virus è grandissimo 600 angstrom 60 nanometri da un lato all'altro qui 60 nanometri e se guardate con attenzione alla membrana del virus allora potete riconoscere catenane ecco esagoni pentagoni esagono pentagono esagono pentagono e tutte queste strutture cicliche sono interconnesse l'una con l'altra ed io credo che questo sia assolutamente fantastico vederlo in natura la topologia in natura è così importante e questo virus ricorda le catene del Cote de Mayo di Cote de Mayo no? questa è la funzione della membrana qui il virus si può distorcere molto facilmente ma meccanicamente è molto è molto robusto perché ha degli anelli che sono interconnessi tra di loro i catenani e i nodi sono molto molto comuni in biologia ed ora vorrei concludere su questo parte ci siamo interessati moltissimo alla topologia per diversi anni devo dire diversi decenni e abbiamo lavorato tantissimo ci siamo divertiti tantissimo nel creare specie sempre più complesse ed in particolare questa specie qua nodo trifoglio è una specie molto difficile molto sfidante e siamo stati lieti di essere stati primi a fare un oggetto di questo livello a livello molecolare allora parliamo di macchine molecolari molto brevemente vorrei parlare della prima macchina molecolare che abbiamo creato a Strasburgo che era un catenano mi scuso innanzitutto perché devo farvi un po' di spiegazione all'inizio ed in particolare per le persone che non hanno nessuna conoscenza della chimica bisogna sapere che il rame l'ione di rame ha due state copper 1 più e copper 2 più vedo che tutti quelli che sono i miei colleghi che sono in prima fila sono d'accordo il rame 1 più è molto felice se è circondato da 4 atomi di azoto e vedete che questo copper 1 è circondato da 4 atomi di azoto e lui è felice in altre parole questa molecola sarà una molecola assolutamente stabile se ossidate cioè se togliete un elettrone da copper 1 plus cioè immaginate di togliere un elettrone da copper 1 plus e quindi generate copper 2 plus il rame il ma questo elemento è molto infelice se ha solo 4 atomi di azoto vuole essere circondato da 5 atomi di azoto e quindi qui cosa abbiamo fatto abbiamo attratto un altro elettrone e abbiamo generato un copper 2 molto infelice una molecola che è assolutamente instabile una molecola che è assolutamente instabile cercherà di trovare una situazione migliore per se stessa e c'è un solo modo per farlo avete 4 atomi di azoto qui e il copper 2 si sta lamentando vuole essere coordinato a 5 atomi di azoto e quindi cosa si può fare ruoti qua sostituisci 2 atomi di azoto che originariamente si trovavano qui con 3 atomi di azoto che originariamente erano alla periferia della molecola e quindi le ruoti e ottieni una molecola molto stabile con un centro di rame 2 molto felice 5 atomi di azoto la molecola adesso è molto molto stabile non c'è niente che si muove niente che succede e adesso puoi ritornare indietro e quindi rimetti il tuo elettrone vai da copper 2 plus a copper 1 plus e in questo caso generi una molecola molto instabile perché il copper 1 per il momento è circondato da 5 atomo di azoto e quindi il sistema cosa farà in questo caso molto semplicemente il sistema si ruoterà di nuovo e ritornerà allo stato originario del composto semplicemente ruotando un anello qua e sostituendo i 3 atomi di azoto che sono qui con i 2 che invece erano qui alla periferia della molecola molto semplice spero non è chiaro forse non vi è chiaro chi crede che è chiaro alzate la mano c'è una persona almeno grazie grazie a tutti quindi una volta che siete qua potete rifarlo e c'è solo un elemento debole non possiamo controllare la direzionalità quindi ruotiamo qui magari in senso orario per arrivare qua e poi magari quando torniamo indietro non sappiamo se sarà sarà antiorario o d'orario quindi la direzionalità è un problema e poi c'è un altro secondo problema cioè che è molto molto lento qua ci vogliono minuti mentre ci volevano secondi prima comunque questo studio ha portato ad un miglioramento del sistema che era incredibile quindi un altro dei miei studenti ha preparato questo video che spero vi piacerà quindi cominciamo da copper one il rame 1 forma questo è complesso rosso marrone che è il colore della molecola più o meno e qui vedete che è circondato da quattro atomi di azoto adesso togliamo un elettrone e generiamo il copper 2 plus il rame 2 più molto instabile il sistema si riposiziona e si crea un copper 2 stabile poi rimettiamo l'elettrone il sistema quindi si distabilizza di nuovo ruota e di nuovo lo potete fare nello stesso modo e quindi potete farlo tutte le volte che volete farlo nel mio computer almeno e alcune volte il computer si ferma ma questa è la nostra molecola e possiamo ricrearla ogni volta è sempre perfettamente stabile e quindi questa è una macchina molecolare molto stabile che abbiamo chiamato una macchina piroettante e poi per dimostrarvi che poi l'abbiamo migliorato questo sistema vediamo che all'inizio noi eravamo ci volevano una scala temporale di secondi o minuti ma abbiamo modificato la struttura abbiamo migliorato migliorato e migliorato il sistema e dopo circa 12 anni di questo lavoro abbiamo creato un sistema di questo genere con un anello che può ruotare o piroettare in microsecondi o millisecondi quindi crediamo che questo sia stato un miglioramento molto significativo e nella chimica è molto comune che si inizi con un risultato che non è completamente soddisfacente e poi ci lavori ancora un po' cerchi di migliorarlo migliorarlo e migliorarlo e dopo 10-15 anni puoi avere un miglioramento molto significativo di 5 o 6 ordini di grandezza quindi vediamo ora il lavoro differinga il suo gruppo nel 1999 Ben Feringa e il suo gruppo un grande gruppo di persone che vi ho detto che lavoravano a Groningen nel nord dell'Olanda hanno creato il primo motore rotativo e in questo caso non sta piroettando è un vero sistema rotativo il sistema gira continuamente questa è chimica ed è difficile da capire io non voglio soffermarmi su questo ma ciò che vorrei dirvi è semplicemente che ci sono quattro fasi quando irradi con la luce UV si può spostare questa parte e poi si ruota da questa parte poi devi scaldare qua e così puoi vedere che ruota in questa direzione e poi sei qui e quindi puoi irradiare di nuovo con la luce ultravioletta e quindi abbiamo il movimento di rotazione e ti ritrovi di qua e quando sei di qua hai una fase termica riscaldi e ritorni all'inizio della molecola e questo è un bellissimo processo è difficile da visualizzare io spero che riusciate a vederlo meglio con questo video che hanno pubblicato sul web dopo aver vinto il premio Nobel e qui potete vedere abbiamo un doppio legame questo è un doppio legame CC per colori che lo conoscono conoscono la chimica e vanno avanti in quattro fasi quindi vediamo quello che succede mettiamo abbiamo la luce ultravioletta che illumina e qui abbiamo due fasi che sono termiche quindi si riscalda e poi di nuovo la luce poi riscaldi la luce riscaldi e spero che riusciate a vedere il movimento riuscite a vedere il movimento se non lo vedete io sono senza speranza non c'è niente da spiegare o lo vedete o non lo vedete mi dispiace e vedete sì che si muove e vorrei di nuovo insistere su questo concetto del miglioramento all'inizio infatti loro facevano un giro in un giorno un giro completo in un giorno dovevano mettere la luce e poi scaldare poi di nuovo la luce invece adesso lo fanno in microsecondi quindi hanno motori rotativi che girano in microsecondi e quindi è un miglioramento molto significativo che sono riusciti ad ottenere parlerò anche del lavoro di altre persone ed in particolare di Stoddart l'altro vincitore del premio nobele e anche il Kiefer un suo collega e collaboratori loro hanno creato delle navette molecolari le navette molecolari sono qualcosa come questo potete muovere un anello da una stazione verde fino alla stazione rossa deve essere successo qualcosa scusate e ritornare indietro poi alla stazione verde e non abbiamo tempo per discutere in dettaglio questo sistema ma voglio dirvi qualcosa di molto importante questa è la molecola che hanno creato è chimica chimica una chimica difficile da capire ma devo dire che ci sono state delle applicazioni molto importanti a favore della preparazione dei dispositivi di memoria elettronica molecolari che sono in grado di immagazzinare informazioni e di ridare informazioni gestire le informazioni e è quello che alcuni chiamano il molecular computing cioè utilizzare le molecole per elaborare e immagazzinare le informazioni è una cosa complicatissima e non entrerò nei dettagli ma se siete interessati c'è questo studio pubblicato undici anni fa e devo dire che è un settore di ricerca molto attiva un settore molto promettente della ricerca perché c'è solo una cosa che noi dovremmo cercare di ricordarci di questa diapositiva qui e che riuscivano a immagazzinare 10 alla undicesima bits di informazioni per centimetro quadrato questo è una quantità enorme è molto molto di più di quello che possono fare i computer di quello che possono fare i semiconduttori i transistors semplicemente perché le molecole sono oggetti piccolissime e se le utilizzate per immagazzinare informazioni allora potete immagazzinare tantissime informazioni in una superficie piccolissima voglio farvi vedere anche qualcuno che ha partecipato a questa grande avventura Vincenzo Balzani che lavora all'università di Bologna Vincenzo è uno degli studiosi che ha contribuito di più al settore delle macchine molecolari che non è stato selezionato dal Nobel Committee e non ho commenti da fare su questo ma devo dire che dobbiamo ricordarci che ha contribuito in maniera incredibile al miglioramento di questo settore e poi due macchine molecolari e poi due macchine molecolari e devo dire che ho quasi finito per quanto riguarda le le diapositive comunque posso dirvi che abbiamo ci siamo interessati moltissimo a creare un muscolo artificiale muscolo artificiale abbiamo cominciato nel 2000 e prima di parlare di questo lavoro vorrei ricordarvi come funziona un muscolo il muscolo funziona in una maniera molto semplice non c'è tensione è completamente diverso dalle dalle molle di metallo infatti i muscoli funzionano facendo scorrere i filamenti l'uno sull'altro e potete vederlo è una cosa molto semplice abbiamo un filamento di actina in rossa che sono i filamenti più sottili e che scorrono andando verso il centro di questo sarcomero il sarcomero è l'unità elementare del muscolo striato mi dispiace che sia tutto in francese qui ma comunque se scorre verso il centro si contrae e quando il muscolo si rilascia si rilassa non consume energia e quindi si rilassa e quindi si rilassa il sistema che si allunga quindi c'è un bellissimo video orribile in realtà è un libro è bruttissimo questo video ma è molto importante è facile capire vedete i filamenti che quelli sottili i filamenti sottili scorrono su quelli spessi e quello che abbiamo fatto noi a questo punto ci è voluto molto tempo è stato in realtà un lavoro difficilissimo soprattutto la creazione della molecola ma anche in questo caso non entrerò nel dettaglio della chimica ma voglio dirvi che abbiamo creato una molecola che ha questa forma abbiamo una componente in celeste e una componente in blu e quello in celeste vedete è infilato nel filamento celeste e l'altro vedete che è infilato in quello scuro e qui abbiamo due stopper che faranno in modo che il sistema non si potrà mai scollare mai dissociare e questo mostra ha mostrato in maniera non ambigua che cominciando da una lunghezza di 8 nanometri inviando un segnale chimico alla molecola noi potevamo contrarre fino a 6 nanometri e poi con un altro segnale potevamo ritornare a 8 nanometri e poi 6 di nuovo e questo è stato il primo c'è la prima cellula sintetica che ha ispirato molti gruppi adesso devo dire che ci sono tantissime persone che lavorano nei muscoli sintetiche hanno creato delle fibre che si allungano che si contraggono ed io credo che sia un settore un altro settore molto importante della ricerca vorrei concludere con questa parte scientifica parlandovi che e dicendovi che la macchina più sofisticata che abbiamo fatto nel nostro gruppo era un compressore io non vi parlerò di chimica in questo caso ma voglio farvi vedere che abbiamo creato una molecola di questo genere un rotassano un multirotasseno ma la parte più importante è che abbiamo due piastre qua due piastre per i chimici sono pufferings e queste due piastre sono molto rigide e potete intrappolare qualcosa tra queste due piastre una G e un guest un ospite che è stato invitato ad entrare in questa cavitata queste due piastre e quello che noi possiamo fare è comprimere il nostro ospite portando queste due piastre ad avvicinarsi si tratta di una cosa molto complessa ma inviamo un segnale chimico e queste due piastre si uniranno e comprimeranno il nostro ospite che è all'interno e questo è stato il primo compressore molecolare ci sono degli enzimi che fanno cose molto simili che sono gli chaperons della biologia e quindi vorrei concludere dicendo che prima dell'emergenza delle macchine molecolari le molecole sintetiche erano considerate come oggetti fermi immobili che facevano movimenti stocastici random e le molecole invece e le molecole che si muovevano erano molto molto rare e questo io credo che sia stato il maggior contributo del nostro gruppo di ricerca alla chimica cioè abbiamo portato nuovi concetti le molecole possono essere utilizzate per creare motori molecolari motori rotativi muscoli compressori e voi potreste chiedermi quali applicazioni sono possibili non entreremo nei dettagli ma vi ho già mostrato che c'è stato un bel lavoro fatto da Studdard e i suoi collaboratori sui dispositivi sui dispositivi di memoria elettronica che si basano su molecole ed io credo anche negli enzimi artificiali perché gli enzimi sono delle macchine molecolari ma sono naturali macchine naturali e noi crediamo che i chimici un giorno saranno in grado di creare molecole molto sofisticate o gruppi molecolari che si comportano come macchine molecolari e come enzimi e questo sarà una vera rivoluzione potete pensare anche ad altre applicazioni come vi ho detto per esempio gli enzimi ma anche dividere le molecole farle passare attraverso delle membrane che potrebbe essere molto importante ed in futuro si farà molta ricerca anche sui robot quelli nano e quelli macro quelli che sono della vita quotidiana ed io credo che i nanorobot saranno molto importanti anche in relazione alla medicina per uccidere forse le cellule cancerogene o per fare altre cose che ancora non abbiamo neanche mai immaginato ma sicuramente ci sono tante applicazioni possibili nel settore dei robot ed infine vorrei dire che questo settore questo campo è un campo in cui si fa ricerca di base e nonostante la potenzialità offerte dalle macchine molecolari in veri campi di applicazione noi dobbiamo ricordare sempre che la ricerca di base è importantissima e all'origine di tutte le tecnologie che noi oggi utilizziamo nella nostra vita quotidiana non so se ancora qualche minuto ma vorrei dire quello che che quello che vi ho raccontato oggi è il risultato di un gruppo di persone di un gruppo di persone che avevano giornate buone giornate meno buone una squadra una squadra questo è il risultato di un lavoro di squadra e la cosa bella del sistema francese è che noi riusciamo a lavorare come gruppi di amici perché abbiamo un contratto permanente e tutte queste persone che hanno lavorato nel mio gruppo hanno lavorato qui permanentemente perché hanno un contratto permanente ho cominciato tanti anni fa erano persone che e quella volta erano giovani ed era bellissimo per i più giovani che avevano come supervisori tante persone persone che avevano un posto permanente che avevano le competenze di fare i supervisori degli studenti e dei postdoc c'erano tantissimi postdoc tantissimi studenti di dottorato di ricerca e qui potete vedere le persone che hanno lavorato nei rotassani nei catanani alcuni di loro oggi sono professori sono persone che hanno fatto carriera per così dire lavorano nel settore delle macchine polecolari e li chiamo catanani e rotassani in azione e ci sono come vedete tantissime persone anche sui muscoli è stata soprattutto Maya Jompello Jimenez una spagnola che ha lavorato su questo e poi il lavoro sui compressori e questo è il lavoro che è stato anche in questo caso fatto da tantissime persone postdoc studenti di dottorato di ricerca professori e vorrei ringraziare anche la mia università l'università di Strasburgo al CNRS la comunità europea è qualcosa di cui abbiamo parlato con Luca proprio ieri credo i finanziamenti nazionali oggi non sono sufficienti per lavorare in condizioni dignitose e quindi dobbiamo affidarci al denaro europeo e l'Europa è stata molto generosa con noi e siamo stati sostenuti dalla comunità europea regolarmente e questo ci ha permesso di lavorare in condizioni confortevoli vorrei ringraziare il mio nuovo istituto Isis che è stato fondato da Jean-Marie Laine 15 anni fa e a cui io mi sono unito sei anni fa vorrei ringraziare anche l'altra mia università non western university dove ho passato tre anni dopo che il CNRS mi aveva invitato a andare in pensione e poi la mia cara amica Jean-Marie Laine grande amica appunto Malcolm Green ho imparato tantissimo di chimica inorganica e poi i due insegnanti mia moglie il mio figlio e poi Fraser Stotter e Ben Ferringer che hanno avuto il premio Nobel con me e se mi date ancora pochi minuti vi voglio vedere le immagini di Stoccolma perché devo dire che per i francesi è assolutamente esotica ma probabilmente anche per gli italiani perché i reali non esistono più vediamo ecco se un giorno andate a Stoccolma per il premio Nobel vostro o di un vostro amico siate pronti a passare diversi giorni dieci giorni ci vogliono per chi vince completamente possiamo dire a tempo pieno a tempo pieno si è molto molto occupati e il giorno della cerimonia che è una giornata speciale che io ricorderò sempre e anche voi ricordereste sempre se l'avessi vistuta una cerimonia molto formale quando ricevete il premio ci sono dei gesti da compiere e questo si svolge nel pomeriggio e poi la mattina devi fare le prove bisogna fare le prove della cerimonia ti fanno vedere ciò che devi fare cosa devi dire e poi il pomeriggio c'è l'oratore del in questo caso avevamo Olaf Rastrong che ha annunciato che aveva vinto è una cosa molto formale tutti come vedete sono vestiti da pinguini con dei bei fiocchi al collo e dopo la cerimonia tutti si rilassano e quindi di solito si rimane sul palco c'è questo palco enorme in una stanza enorme e noi naturalmente eravamo molto felici di essere insieme quindi Fraser è più riservato non so perché Ben e io invece sorridiamo e questa è la mia famiglia che mi ha accompagnato Carmen mia moglie Jean-Marie Laine il mio primo supervisore che partecipa sempre perché lui ha vinto il premio Nobel nel 1987 era un ragazzo devo dire quella volta e se andate quindi a Stoccolma per questa occasione avete anche un attaché un attaché questa è Anna lì qui è un attaché è una signora molto gentile che sta con te tutto il tempo per farti vedere dove devi andare cosa hai in agenda per i dieci minuti successivi o l'ora successiva perché le attività sono così dense che è impossibile assolutamente da ricordare quindi vi devono guidare in continuazione e poi hai anche uno chauffeur una Volvo limousine anche e un autista che vi porta dovunque tu vuoi andare e quando ritorni a casa poi ritorni sulla terra e ti piace moltissimo devo dire ti piace moltissimo tornare a casa grazie a tutti 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 il ruolo che l'Università di Perugia ha avuto nella realizzazione di questo evento in particolare il Dipartimento di Chimica Biologia e Biochimica dell'Università di Perugia scusate Chimica Biologia e Biotecnologie lo devo dire bene perché gli accademici sono per malosissimi e rappresentato qui dal Vice Direttore il Professor Fabio Franciolini quindi grazie anche alla loro partecipazione una lezione magistrale spettacolare spettacolare bravissimo bella entusiasmante abbiamo tempo per raccogliere poche domande ma qualche domanda la potete fare la potete fare in italiano se volete e poi se necessario tradurremo ma il Professor Savage capisce abbastanza bene l'italiano chi vuole fare una domanda alza la mano per favore e viene qui vicino al microfono immagino che c'è sempre un pochino di imbarazzo ma quando mai vi ricapita l'occasione per fare una domanda al premio Nobel quindi potete chiedere qualunque cosa entro certi limiti prego come si misurano le caratteristiche di una macchina molecolare come si misura il tempo che è necessario per fare una rotazione completa è un punto tecnico e forse dovrei farvi rivedere una delle diapositive questa questa è molto tecnica in un certo senso quindi la domanda è come si misura il tasso come si fa a sapere che ruota beh da qui a qui si applica un potenziale redox un certo potenziale redox e questo potenziale redox corrisponde a 4 rami ioni di rame coordinati e quindi bisogna applicare un potenziale positivo perché il copper one è molto stabile molto felice l'icome quindi se lo vogliamo modificare si resisterà una volta che ti trovi in questa situazione puoi tornare indietro se applica applichi lo stesso potenziale ma a questo punto diciamo aspetti due minuti e hai una nuova situazione e se guardi adesso per ritornare qua devi applicare un potenziale negativo perché il copper 2 plus adesso è molto stabile ha 4 atomi di azoto e quindi la differenza è enorme qui quindi se misuri il potenziale il potenziale redox devi sapere sai esattamente dove sei sai se si trovi qua o qua o se hai una miscela di tutto questo magari vedrai due segnali allora due segnali redox 0,67 l'altro meno qualcosa e un'altra tecnica è questa electronic paramagnetic resonance è una tecnica dei fisici e poi sapere esattamente qual è la geometria qui attorno al centro copper 2 è stato un piacere abbiamo tempo per un altro paio di domande prego se c'è qualcun altro che intanto si prepara può venire qui direttamente in order to start with the movement of the molecular machine cominciare con il movimento delle maccole polepolare ha parlato di stimolo elettrico ma è possibile anche utilizzare un laser o un aumento della temperatura l'aumento della temperatura è un'ottima idea non è mai stato fatto però è un bel progetto e lo stesso vale per il campo magnetico io sono molto sorpreso che in realtà che nessuno mai ha utilizzato un campo magnetico per stimolare il movimento è molto sorprendente non so perché non è stato fatto il laser naturalmente i segnali fotonici sono stati utilizzati in molti molti esempi e soprattutto il motore rotativo di Ben Feringa il doppio legame che abbiamo visto nel video era fotonico termico a proposito della macchina di Feringa volevo chiedere come fosse possibile la rotazione sul doppio legame soltanto con la luce di Feringa Peringa's molecule it is chiral it is chiral which means that if you want to rotate there will be a preferred way water this way rather than the other because of chirality and this is the secret of their rotary motor, chirality yes qualche altra domanda prego Fabio Professor Franciolini grazie vedo la sala piena di giovani che ancora devono organizzare, programmare la loro vita lei che è arrivato a questi livelli di eccellenza che si sente di dire a questi ragazzi? ma è molto semplice ciò che vorrei dire è che se si occupano di scienze si devono divertire devono occuparsi di scienza per il piacere che vi darà e tanto più ti piace tanto più passione avrai per la scienza tanto più successo avrai e non vi preoccupate poi così tanto dei premi delle medaglie di tutte queste cose fate il vostro lavoro svolgete il vostro lavoro con grande passione e questo è tutto grazie 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 c'è tempo per un'ultima domanda se è disponibile faccio io una domanda che è di tipo politico è una domanda politica si parla spesso di ricerca finanziata dallo Stato da enti pubblici dalla Commissione Europea si parla sempre più spesso di ricerca applicata cioè ricerca finalizzata a tenere un risultato dal lavoro che tu ci hai mostrato si vede che a volte uno comincia a fare una cosa e poi ne scopre un'altra grazie a questo meccanismo della serendipity forse quindi bisogna anche tenere conto che la ricerca di base ha bisogno di finanziamenti come la ricerca applicata ultimamente l'impressione che ci sia troppa enfasi sulla ricerca applicata e poca sulla ricerca di base posso commentare su questo? No, io credo sono completamente d'accordo la ricerca di base va protetta la ricerca applicata naturalmente è molto importante ma viene finanziata dalle aziende in maniera naturale quasi soprattutto da aziende e anche naturalmente da altri programmi del governo ma senza dubbio la scienza di base deve essere protetta e noi siamo stati fortunati in un certo senso non so se siamo stati fortunati per questo ma io dico perché io sono anziano quando abbiamo quando abbiamo fatto questo lavoro quando abbiamo iniziato negli anni 80 più o meno la scienza di base non aveva nessuna difficoltà a ottenere fondi riuscivamo ad avere dei fondi anche per i catenani naturalmente avevamo denaro anche per l'ascissione dell'acqua perché c'era molto interesse su questo ma poi abbiamo utilizzato il denaro per fare i catenani non era giusto forse per chi ci finanziava ma non abbiamo avuto problemi l'abbiamo fatto abbiamo utilizzato quel denaro senza scrupoli per i catenani se posso dire e in quel periodo fare i catenani o fare un nodo in seguito non era un grande problema dal punto di vista dei finanziamenti devo dire che adesso sarebbe molto più difficile io non so se saremmo in grado di fare la stessa cosa potremmo noi abbiamo detto nessuno ha mai creato un catenano e noi poi vogliamo farne uno nessuno ha mai fatto un nodo trifoglio e quindi ci davano i fondi io non credo che oggi questo sarebbe sufficiente per ottenere dei fondi e questo rappresenta un grave problema grazie a tutti devo dire che tra gli enti diciamo che finanziano la ricerca la fondazione che ha un bando specifico sulla ricerca di base che è una cosa che per chi fa ricerca in questo territorio sa è preziosissima quindi a maggior ragione il ruolo che la fondazione svolge in questo territorio anche per la ricerca di base è veramente molto importante quindi vale la pena sottolinearlo adesso you do not know about this but we are sharing the stage with the film festival it's called Love Film Festival so now they want to give you an award I don't know why maybe they they hope that in the future you will play in one of the movies for the film festival e mi piace chiamare Daniele Corvi che è il direttore del Love Film Festival che ha un premio speciale per te innanzitutto ringrazio per lei presidente grazie per questo magnifico incontro sono stato molto contento di annullare e spostare tutti i miei eventi che erano previsti in questa giornata perché era troppo importante che tutta la città fosse presente ci dispiace per le persone che sono fuori abbiamo cercato di liberare anche la sala della Vaccara però complimenti per il avente è stata un'organizzazione eccellente disciplinata ma quello che abbiamo assistito oggi è stato un onore è stato bellissimo emozionante anche per chi non conosce la materia scientifica io mi auguro che magari del professore ci possa essere veramente un film come Beautiful Mind la teoria del tutto e questo premio che ho il piacere di consegnare insieme all'ideatore di questa bellissima iniziativa è per testimoniare la passione l'impegno che porta a questi risultati e che onorano soprattutto la nostra città grazie grazie grazie